musica ok allora vediamo la gestione dei giochi in multidisco cioè quindi che hanno più di un disco oppure che hanno magari lato A e lato B dove una volta bisognava quando veniva richiesto tirare fuori il disco, girarlo nel senso opposto e inserirlo di nuovo allora vi dico già che Winvice non ha una grandissima gestione infatti appunto di giochi in multidisco però qualcosa si può fare allora principalmente abbiamo due sistemi, due metodi uno molto logico ed elementare e un altro un po' più macchinoso ma che comunque dopo ci può venire molto utile allora prima cosa bisogna munirsi di beh a parte l'emulatore ma quello già ce l'abbiamo di un gioco multidisco adesso io non sto a farvi vedere di nuovo dove scarichi i giochi perché vi ho detto, ve lo faccio sempre vedere ma andate su planetemu.net e li scaricate da lì e siete a posto quindi vi cercate un gioco multidisco se volete fare delle prove e allora apriamo l'emulatore io mi sono già preparato un paio di giochi ma tanto ne basta solo uno poi comunque sono tutti uguali come nel procedimento lo stesso allora emulatori, winvice, x64 perfetto allora adesso carichiamo insieme un gioco multidisco così vediamo cosa fare nel caso ci chiede o meglio quando ci richiede di inserire o girare il disco che per noi vi avviso già cioè girare il disco quindi avere lato A e lato B o un altro disco è la stessa cosa per noi come fossero sempre tutti i dischi differenti ok lato A è un disco lato B è un altro disco bene allora adesso carichiamo pure un gioco facciamo la procedura quella semplice senza riga di comando diciamo quindi facciamo file avvia automaticamente immagine disco cassetta io ho preso visto che Turrican ci chiede a due dischi quindi possiamo pure procedere con questo carico il side A che sarebbe il lato A e faccio selezione chiaramente lui adesso me lo carica con la dovuta calma farà tutto il caricamento fino a quando ci verrà richiesto di inserire neanche inserire di girare il disco e mettere di conseguenza il lato B visto che Turrican veniva venduto comunque con un disco solo però in realtà erano due lati ma non vi ripeto lato A e lato B sono per noi che emuliamo sono comunque due dischi distinti perfetto adesso lui ci chiede ci dice turn the disc quindi girare il disco quindi dobbiamo inserire un disco nuovo praticamente allora la cosa più semplice adesso non vi faccio vedere il schermo intero per il motivo per cui se no mi va in tilt il programma di registrazione si inchioda tutto quindi lo lascio in finestra comunque e adesso farò questo farò file selezione immagine disco drive 8 perché? perché stiamo utilizzando il drive numero 8 se vedete c'è il 9 c'è il 10 c'è l'11 quelli sono dei drive aggiuntivi ma al momento non ci interessa quindi stiamo lavorando sull'8 dentro il drive 8 abbiamo un disco adesso basta selezionare una nuova immagine lui in automatico ci toglie quella vecchia e ci inserisce quella nuova quindi drive 8 e vado a selezionare il side B di Turica eccolo qui seleziona premiamo il tasto del joystick e lui va avanti a caricare il primo livello aspettiamo che parte il gioco verifichiamo che funzioni eccolo qua il gioco è caricato siamo a posto qua ci facciamo la nostra partita tranquillamente perfetto quindi questo qui diciamo che è il metodo più semplice più logico più elementare quindi cosa facciamo noi quando ci chiede di inserire o girare il disco noi andiamo a togliere tra virgolette togliamo il disco vecchio ma lo fa in automatico e inseriamo il disco nuovo quello che ci richiede che sia il lato B o che sia un altro disco poi e questo è uno il secondo sistema è un po' più macchinoso però adesso noi facciamo così facciamo un bel file reset hard e come avrà spento ho riacceso tutto per sicurezza faccio anche questo vado su file rimuovo immagine disco gli do tutti o comunque basta dare su drive 8 ok infatti se vedete qui in basso a sinistra della finestra c'è scritto rimosso dispositivo 8 così sono sicuro che è vuoto il drive è libero senza dischi perché devo fare questa cosa perché adesso vi spiego come praticamente creare una flip list infatti se vedete sotto file flip list qui ci dà la possibilità di caricare o salvare una flip list che cos'è una flip list? praticamente è un insieme di dischi in un unico file una cosa da dire però non è che noi adesso andiamo a caricare questo file e lui è in automatico si legge tutti i suoi dischi si carica si cambia tra il lato B il lato A il disco 3 il disco 3 il lato A assolutamente siamo sempre noi che dovremmo andare a selezionare il disco però non abbiamo più la rottura diciamo di andare a primer su file e dare aggiungi disco si selezioni immagine disco drive 8 e andare sul percorso e scegliersi il disco lo si fa però in una maniera più semplice quindi allora lavoriamo con Turrican e abbiamo due dischi adesso io però vi faccio una cosa per capire meglio secondo me che è tanto lungo il nome del disco del lato del disco quindi per semplificare un po' le cose rendendo più intuitivo scriviamo pure Turrican side A e dopo gli do Turrican side B così diventa più chiaro Turrican side B perfetto allora andiamo su file selezione immagine disco drive 8 in questo caso perché stiamo lavorando sempre su drive 8 e selezioniamo un'immagine di Turrican sono due lati e possiamo anche selezionare la non è importanza B o A l'importante che alla fine siano selezionati tutti quanti magari tenendo un ordine partiamo pure dalla A il lido seleziona quindi adesso noi se vedete qui in basso a sinistra della finestra ho il disco lato A caricato all'interno del lettore dei dischi dopodiché vado su file flip list aggiungi immagine attuale unità 8 quindi il disco con inserito lo aggiungo questa flip list e clicco il tasto sinistro del mouse adesso lui l'ha caricata anche se non mi dice niente a video è come se non fosse successo nulla in realtà l'ha caricato l'immagine dopo per sicurezza io faccio file rimuovi immagine disco dal drive 8 potete fare anche tutti per essere più sicuri così come se avessi tolto il disco e vado a inserire un altro disco che in questo caso sarà il lato B quindi seleziona file seleziona immagine drive 8 lato B seleziona file flip list aggiungi immagine attuale quindi l'attuale nel drive nell'unità 8 sarebbe il lato B del disco in questo caso e clicco anche qui lui non mi dice mai nulla però in realtà ha aggiunto anche il lato B poi andiamo su file flip list salva file flip list gli diamo un nome gli do turica un nome del gioco lo salvano nella stessa cartella del gioco ma questo non è importanza potete salvarlo dove volete intanto per avere un po' di ordine e ti do salva perfetto allora adesso facciamo così tanto per essere sicuri di partire da zero io faccio file selezione file rimuovo immagine e disco tutti faccio anche un bel reset del hard spengo una lo chiudo un attimo e lo faccio ripartire come fosse come se avessimo appena acceso il computer e facciamo partire l'emulatore adesso vado a caricare la flip list che ho creato quindi file flip list carica file flip list turica apri e vi faccio vedere un'altra cosa prima la flip list in realtà non è che sia un file contenente tutti i dischi è un file di testo contenente i link ai tutti i dischi quindi se vedete qui ad esempio ho un 171k del lato A 171 del lato B però il file flip list mi risulta un K impossibile dovrebbe pesare almeno 350k perché se io vado ad aprirlo col block notice e vediamo cosa c'è all'interno abbiamo il percorso a un disco side B e un altro disco side A quindi è solo è semplicemente un file di testo con dei link ai dischi tanto per vedere cos'è e farvi capire meglio questo flip list questo file flip list ok adesso l'immagine disco l'ho caricata non mi ricordo si ricarichiamo per sicurezza tanto ok turica perfetto adesso al posto di andare appunto a caricare ogni disco singolarmente io posso sfruttare i tasti di scelta rapida quindi se andiamo su file flip list e abbiamo selezione immagine successiva selezione immagine precedente alt N e alt B quindi io adesso ho caricato il file lui non mi dice nulla però se io premo alt N vedete in basso qui che viene fuori scritto selezionato turica side B premo alt N ancora selezionato turica side A premo ancora alt N lui continua B A B A se premo l'altro tasto torno indietro ma comunque è sempre una cosa ciclica e dobbiamo essere intanto sicuri di aver inserito il disco giusto il lato giusto perché altrimenti se io carico la flip list e non sono sicuro al 100% di aver caricato il primo disco chiaramente non caricherà nulla quindi adesso premendo alt N possiamo switchare tra un disco e l'altro oppure tra un lato e l'altro come volete in questo caso sono lati quindi seleziono turica side A adesso io so che lui ha nel drive il turica side A quindi gli do in questo caso bisogna avere la conoscenza della riga di comando del Commodore ma non è difficile quindi gli darò load aperte virgolette asterisco perché asterisco perché con l'asterisco noi andiamo a caricare diciamo il primo file che si trova all'interno della lista dei giochi e dopo gli do virgola 8 perché è inserito nel drive 8 e gli diamo anche questo virgola 1 che adesso non vi dico cos'è perché qua si possono aprire dibattiti enormi sul virgola 1 e gli do invio e lui se vedete comincia a caricare il side A dopo quando arriva al momento di chiederci di girare il disco o se per un altro gioco di inserire il tal disco quindi il disco 5 lato B piuttosto che il disco 3 lato A noi con alt N andremo a switchare e a selezionare il disco corrispondente tanto ci mettiamo un attimo molliamo poi premiamo quello che ci chiede barra piuttosto che il fuoco del joystick e lui ci leggerà il disco che abbiamo selezionato quindi diventa una cosa molto più veloce da gestire tutto qui certo che sarebbe stato meglio avere una gestione completa quindi visto che abbiamo la possibilità di aumentare i drive fino a 11 quindi 8 9 10 11 4 dischi possiamo inserire in contemporanea sarebbe stato bello che si gestisse in automatico la lettura dei dischi e la scelta del disco giusto però sembra che non lo faccia quindi ho trovato questo sistema come migliore da usare con WinVice qui quando ci chiede lui è pronto e dobbiamo digitare run per farlo andare avanti nel caricamento perfetto adesso ci chiede di girare il disco quindi molto semplicemente ci basta premere alt più n e andiamo a selezionare guardate sempre in basso a sinistra della finestra io ho selezionato turica side b quindi adesso è come se avessi inserito il turica side b basta che premo il tasto fire quello che è e lui andrà a leggere il disco che praticamente ho inserito adesso vediamo se parte il gioco ok gioco è partito funzionante ecco questo qui è quello che riguarda un po' la gestione dei giochi multi disco con WinVice e secondo me funziona cioè si va bene perché è una cosa molto diventa molto rapido non dovete rompervi le balle andare col mouse o file apri per scegli percorso il disco eccetera eccetera quindi vi basta premere un tasto o due tasti sulla tastiera e diventa fate molto presto switchare tra un disco e l'altro e ecco dopo se avete domande domande dubbi problemi incertezze non riuscite a farlo perché anch'io subito non riuscivo non capivo poi leggendo un po' in giro ma provando più che altro perché c'è poco ci sono pochissimi argomenti sul tema sono riuscito quindi mi iscrivete appunto se non capite bene basta niente iscrivetevi al canale mettete un like se mi piace il video e un'altra cosa volevo dirvi sì provate a fare tutto questo con il retro pie e con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti